Quindi i turi si apprestano ad entrare nell'arena e alla loro entrata sono già confusi, disorientati, agitati perché non vedono una via d'uscita, non riescono a vedere bene ciò che gli accade intorno anche per colpa della vasellina appunto e della trimentina. Lì inizia la prima fase che è la terzio dei banderiglias dove gli vengono conficcate le banderiglias all'interno dei muscoli del collo per strapparli in maniera tale che strappando i muscoli del collo i loro movimenti siano sempre più limitati e li costringono a tenere il capo chino in maniera tale da non poter capire cosa gli accade intorno e avere sempre la visuale bassa verso il terreno.